Stanotte voleva fare l'amore. Grande fratello, la confessione tra ragazze arriva stamattina, dopo una notte a dir poco romanticissima. Andiamo con ordine però, perché ci sono tante cose da dire riguardo quest'ultima novità nella casa. Dobbiamo iniziare dicendo che nonostante la nuova edizione del Grande Fratello 2024 abbia già regalato momenti di grande emozione e colpi di scena, nessuna storia ha catturato l'attenzione del pubblico come quella tra Shaila Gatta e Javier Martinez. Entrambi concorrenti della casa più spiata d'Italia, la loro relazione ha subito un'evoluzione sorprendente, caratterizzata da baci, dichiarazioni d'amore e l'ombra di un possibile triangolo. Shaila Gatta, ex ballerina di Striscia La Notizia e volto noto della televisione italiana, ha fatto il suo ingresso nella casa con un bagaglio emotivo significativo. Dopo una relazione tumultuosa con Lorenzo Spolverato, che ha portato a tensioni e conflitti, Shaila ha trovato in Aavier Martinez, un pallavolista argentino, una spalla su cui contare. Durante le prime settimane del reality, i due hanno iniziato a conoscersi meglio, creando una connessione che si è rapidamente trasformata in qualcosa di più profondo. La svolta decisiva è avvenuta durante la puntata del 14 ottobre 2024, quando Shaila ha finalmente dichiarato i suoi sentimenti per Aavier. La ballerina ha confessato, mi sia acceso qualcosa e sono proprio felice, sottolineando come Aavier non l'abbia mai giudicata e desideri conoscerla meglio. Questo momento ha segnato un punto di non ritorno nella loro relazione, culminando in un bacio appassionato che ha fatto il giro dei social media e ha scatenato l'entusiasmo dei fan. Stamattina la ragazza, alle non è la Rai, ha confessato che ha dovuto chiedere a Aavier di darsi una calmata perché probabilmente stava diventando un po' troppo accesa la situazione. La giovane ha poi confessato che quando si abbracciano è come far l'amore, ogni giorno mi piace sempre di più, mi fa stare bene. A questo punto una delle non è la Rai ha dichiarato, quando lo farete la prima volta sarà come i fuochi d'artificio. E lei si è accasciato fingendo uno svenimento. Tuttavia, la felicità di Shaila con Aavier potrebbe essere minacciata dall'arrivo dell'ex fidanzato di lei, Salvatore Monaco, noto come Sasa. Viaggio Danelli, ex concorrente del Grande Fratello, ha rivelato che Sasa potrebbe entrare nella casa per creare nuove dinamiche. Il video finisce qui, ma se sei interessato alle news puoi iscriverti al canale e attivare la campanella per non perderti i nuovi video.